Una vera e propria testimonianza di uno dei periodi storici più bui e drammatici che mette in risalto una Russia senza tempo colpita dalla violenza e dalla guerra, rappresentata in tutta la sua follia e il suo orrore. Sono immagini forti, dirette e sofferenti, quelle scattate dall'Alessandrino Pasquale Vella, soldato del 37esimo reggimento di fanteria della divisione Ravenna, che oltre alle foto ne ha realizzato anche disegni acquarelli. E ad oggi, dopo molti anni rimasto nascosto ma perfettamente custodito, tutto questo materiale sarà finalmente reso pubblico nella mostra Guerra senza Odio, italiani e russi nella foto e nei disegni del soldato Pasquale Vella, di cui l'inaugurazione è prevista per domani nella sede della Società di Storia, Arti e Archeologia dell'Alessandria. Quando è partito per il fronte si è portato dietro una nutritissima scorta di rullini fotografici e di fogli da disegno. Poi ha preso questa macchina fotografica e ha fatto 220 fotografie circa e ha realizzato una novantina di disegni di persone, ritratti, sono proprio ritratti di persone che lo incontrava. Oltre a rappresentare un'ulteriore testimonianza storica, la mostra darà soprattutto l'opportunità a molti alessandrini di poter riconoscere nelle oltre 200 fotografie in esposizioni i propri nonni o padri. Molto importanti sono infatti le immagini che ritraggono i soldati che nel 1943 tornarono in città con i parenti pronti ad aspettarli, perfettamente conservate, nonostante siano rimaste nascoste per diverso tempo. In effetti questo materiale presumo sia giunto in Italia alla fine della guerra, quindi nel 1945, poi è stato messo via, non è stato chiuso a chiave ovviamente, però era nascosto, era riservato diciamo. E lo è stato da quel periodo lì fino al 2013 quando alla morte di mia mamma, mettendo mano alle cose di famiglia, è emerso e è venuto alla luce tutto questo materiale.